Ciao ragazzi da Marco Toscano di indesignstartup.com e professional indesigner In questa video lezione voglio parlarti di vedove e di orfani Cosa sono e quali sono le buone abitudini che dovresti utilizzare per evitarle Partiamo quindi dal individuare che cos'è una vedova Una vedova la puoi vedere benissimo qui in questo testo formattato solo in parte Nella parola bevi Una vedova infatti è una parola lasciata da sola alla fine di un paragrafo Bene, questo genere di errore, come l'ha un'orfana Che è una parola invece lasciata da sola Una parola, una porzione di parole lasciate da sola all'inizio di un paragrafo All'inizio di una pagina Bene, sono errori che dovresti sempre evitare Evitare come la peste Per farti capire il tipo di gravità dell'errore O meglio, la sensazione che dovresti provare Mi viene soltanto in mente il comic sans Il carattere più odiato dai graphic designer di tutto il mondo Che genera malessere, sdegno, preoccupazione Tutte le volte che viene usato da qualcuno o da un cliente O richiesto da un cliente Bene, lo stesso genere di malessere e sensazione La dovresti provare quando vedi, commettere o commetti questo errore Per fortuna però InDesign è uno strumento veramente avanzato da questo punto di vista Che ti permette di gestire questo genere di problematica in maniera sapiente Che ti permette appunto di evitare di arrivare a questo errore tranquillamente Perché è InDesign che evita per te questo errore Con tutta una serie però di buone abitudini che tu devi prendere Scusa il gioco di parole Abitudine ad avere La prima cosa che possiamo vedere su questo testo È che è banalmente non formattato Cioè nel senso io ho lasciato il paragrafo base E ho giusto cambi allineato alle linee di base E ho regolato l'interlinea Tutto qui Ma andiamo a vedere quali sono queste buone abitudini La prima abitudine che dovresti avere intanto è creare una gabbia di testo Una cornice di testo che ospiti il giusto La giusta quantità di testo per il prodotto che stai realizzando In questo caso stiamo realizzando un libro Lo si nota dalle due pagine affiancate Dalla colonna principale e dalle numerazioni delle linee Ovviamente che ci aiuta ad individuare i vari errori Ma soprattutto lo si nota che è un libro appunto Dalla quantità di testo per ogni linea di testo Infatti i caratteri presenti all'interno di ogni linea di testo Non superano i 65 caratteri Cosa vuol dire? Che vuol dire che un libro normalmente ha questo genere di composizione Non ci sono massimo 60-65 caratteri per linea di testo Deve essere una media Ci sarà la linea che ne avrà 60 E la linea che ne avrà 65 Non ci devono essere linee da 75 Possono capitare Ma non deve essere la regola Lo puoi fare benissimo da solo questo ragionamento Cercando di prendere una serie di libri tascabili normali E vedrai che se non si tratta di libri composti con carattere corpo 14 Ma un carattere corpo 9 come in questo caso Quindi veri e propri libri di testo di molte pagine con tanto contenuto Vedrai che più o meno la quantità di caratteri per linea è questa qui E questa è la prima regola Perché abbiamo stabilito un paletto Che va a contenere il nostro testo giustificato Come vedi quindi non a bandiera come potrebbe essere in questo caso Ma giustificato a sinistra In maniera compatta Questo però non, come vediamo dalla parola bevi Non ci mette al sicuro Dal evitare la creazione di questo errore Ci sono altre altre buone abitudini La prima è sicuramente quella di usare il pannello brano E usare l'allineamento ottico al margine Fissato su 9 punti Perché 9 punti? Perché è il nostro corpo del testo Fatto questo andiamo a vedere Che se io clicco su body text L'errore scompare Perché? Perché lo stile di paragrafo che ho utilizzato E' stato confezionato Per evitare questo genere di errore Sistemato il pannello brano Un'altra regoletta che si potrebbe utilizzare E' quella della giustificazione Ma possiamo sicuramente Per superare questo problema Usare uno stile grep Uno stile grep è un pattern di caratteri Passami il termine Che va a comunicare con InDesign Per fargli capire dove vogliamo applicare una regola Nella fattispecie qui stiamo dicendo Di applicare lo stile di carattere Non dividere Alle ultime 5 Agli ultimi 5 caratteri Alla fine di un paragrafo Lo possiamo anche modificare in 8 Dipende un po' dalla composizione del tuo testo Fino a dove le vedove tendono a vedersi Che cos'è lo stile di carattere non dividere? E' un banalissimo stile di carattere Che puoi vedere qui nel pannello stile di carattere Che nei formati base di carattere Ma anche in tutti gli altri Non ha nessuno stile, famiglia Niente di niente E' uno stile di carattere completamente vuoto E' senza un fatta per la funzione non dividere La funzione non dividere per farti capire Non è nient'altro che questa Quindi io seleziono una piccola parola Che è sillabata E vado a dire non dividere Essenzialmente il mio stile grep Va a fare questa lavorazione Ecco quindi quelle che sono le buone abitudini Che dovresti sempre avere Per evitare le vedove e le orfane Ricapitoliamole Prima di tutto creare una gabbia di impaginazione Congrua al progetto che devi eseguire In questo caso un libro Quindi quanti caratteri per linea di testo devono esserci Qual è la media di caratteri per linea di testo Che deve avere la mia composizione Usare il pannello brano E poi farsi aiutare dal Dalla macchina Dal computer Da InDesign Con gli stili grep Giusti da utilizzare Per evitare di incappare In errori Veramente Veramente Orrendi E soprattutto Che ci Mostrano come Incompetenti Di fronte a Clienti O potenziali tali Bene Se questa video lezione ti è piaciuta E vuoi continuare il tuo apprendimento Su InDesign Ti consiglio di accedere ai miei due corsi InDesign Startup Oppure Professional InDesigner Dove potrai trovare Molte molte altre lezioni Che ti aiuteranno Nel tuo percorso di apprendimento Di InDesign Spero di vederti all'interno Ci sentiamo nel prossimo tutorial A presto Marco